Ciao a tutti, oggi prepareremo i tortellini in brodo vegetale. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono tortellini, cipolla, patata dagli adappezzetti, carote dagli adappezzetti, sedano, pomodorini, acqua, sale e olio. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le patate dagli adappezzetti, la carota dagli adappezzetti, i pomodorini, il sedano, la cipolla, il sale e l'acqua. Ed azioniamo il bimbi per 25 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Filtrare il brodo e mettere da parte le verdure. Abbiamo filtrato il brodo, lo rimettiamo nel boccale e portiamo ad ebollizione per 7 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità, soft. Aggiungiamo l'olio, i tortellini e li facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione che nel nostro caso è 2 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità, soft. I tortellini sono cotti, andiamo a impiattare. Tortellini in brodo vegetale. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!